... Hanno cominciato la stagione con un punto e oggi cercheranno di ottenere la prima vittoria. Quattro punti dopo due giornate sarebbe un risultato di tutto rispetto. Partiti. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. Scendono in campo col 4-5-1 anche se la connotazione sembra piuttosto offensiva. Sarà fondamentale il loro apporto alla manovra per nulla. Prudey! Parata straordinaria con un gol. Sul più bello. Cleverley. Con questo match arriva a 50 presenze in questa spalla. Stefano si è inserito bene. Pare di sì, Pierre. Gray, 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 gol! Pronti via ed è già arrivato il primo gol del match. Grande partenza. Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria. Un approccio che sembra aver funzionato. L'azione personale di Gray e gol dell'1-0. Grande questo giocatore che ha solo 77 di statistica ma è devastante la sua velocità. Hanno aperto le marcature con questo. Pagni di reparto e questo può che giovare sia a lui che alla squadra. C'è spazio per andare. Occhio al contropiede. Rasfolt! Gol solo sfiorato da parte dell'attaccante. Cosa ho sbagliato ragazzi. Sotto la soli. Grande chiusura difensiva. Rashford. Maraglia metri. Cleverley. Prende la mira. Impressione che il portiere non l'abbia nemmeno vista. Ha lasciato partire un tiro di rara violenza. Che gol. Cleverley. 2-0. Gran tiro. Ma ho preso la mira dalla distanza. Ho avuto il tempo per mirare e raddoppiare meritatamente. Questa rete conferma le sue eccezionali qualità. Vede la porta come pochi atti. Prendono la mira. Quanto mi piacciono questi gol. Ed è un gran gol. Perché è veramente un gran gol questo. Sia inutile Pierre. Ancora un quarto d'ora da giocare. Rashford. Lingard. C'è Bertrand. Barclay. Arbitro che annulla la rete. La posizione di fuorigioco tra le proteste dei giocatori. Credo che l'assistente avesse... Flum. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Ci saranno tre minuti di recupero. Punta l'area. Barclay. Che gol! Splendi da rete! L'allenatore gli ha dato fiducia e lui certamente non ha deluso. Il divario tecnico fra le due squadre è stato grande. E questo è il modo ideale per festeggiare una vittoria netta. È arrivato... ...